buongiorno a tutti e finalmente benvenuti al primo video con l'open beta di guilty gear cioè l'ultimo capitolo di guilty gear che da quello che si evince dalla prolassi della sintassi della storia potrebbe essere l'ultimo perché in questo titolo ci decidono le vite e il futuro di tutti questi di tutte queste creature di tutte queste attrezzature gear non mi ricordo bene che cosa vuol dire armatura una roba del genere gears of war nel primo video che vedrete oggi sarà lo scontro tra i due personaggi che sono diciamo i due personaggi cardine diciamo il ken e ryu di guilty gear ovvero soul bad guy ovviamente lo prendiamo col vestito originale quando lo uso io and i am ready contro che kai kisk kai kisk lo prendiamo con l'altro vestito quanti vestiti ci sono lo prendiamo con il numero due partiamo subito col primo scontro ecco il link al mio canale twitch e alla mia pagina instagram per seguire gli aggiornamenti ce la metterò tutta sei pronto non c'è bisogno di risparmiare colpi aia ma io volevo anche andare a vedere un paio di robe brutto bastardo di un kai kisk invece mi tocca fare tutto alla cazzo de kame maledetto du volevo andamme a vedere du du mosse du qualcosa e invece non riesco a fare un cazzo spero dopo di riuscire aia ti sarebbe piaciuto farmi fare la super mega cosa zettata dall'altra parte aiuto dragon install ma ho sbagliato porco satana ho attivato una cosa che non dovevo attivare maledizione chi mi ha slasciato la sua la prima vittoria aia e queste ovviamente sono anche le mie super prime partite dame che posso schiacciare start e io dicevo infatti che avevo attivato un qualcosa che mi sollazzava abbastanza avevo attivato la sua super mega power ovviamente queste qua sono le mie primissime partite quindi quello che vedete diciamo che non andrà proprio a the feature poi nel risultato finale dato che non ho ancora fatto training mode non ho ancora fatto una fava di niente e devo ancora capire bene come si fa a fare tutte le cose non so neanche se con il tasto indietro effettivamente faccio la parata o altre cose heavy mob symmetry l'ho preso piglia questo slasciato esatto non c'è neanche bisogno di traduzione porca la miseriazza siamo uno a uno terzo duello roccheggiamo potentemente super mega trasformazione a livello artistico di direzione per quanto riguarda tutte le cose che si vedono su schermo anche le areni fondali personaggi sono fatti magnificamente anche la distruzione che kikisuke mi sta portando è fatta magnificamente porco satana mi ha slasciato la vittoria è sua mi sa che stavolta ho vinto io kai ha vinto e la mia playstation sta esplodendo ma andiamo subito a farlo al contrario non ti conviene reagire mi hai robato la battuta ci sono anche i ladri in questo video e io devo tenere premuto start che devo andare a mamma mia ho fatto roba con il coso dei tasti spero soltanto di nano fate fatto stronzate porca miseria spiro che sia saltato fuori qualcosa del tipo mamma mia non c'è sabbataggio quindi tutte le azioni che hai fatto hai sbagliato e tu non puoi fare nulla hai capito sto kikisuke rispetto a solo beh dogaio me l'ha fatta lui no si quasi bastardo infame col quadrato c'ho poca install l'installamento ho vinto io ho vinto io con lo slasciamento sto kia ovviamente ogni personaggio ha una sua pesantezza eccetera eccetera questo kikisuke mi sembra leggermente un attimino aia la puttanazza del counter un attimino un pelo più abile ed arruolabile per i miei gusti sintetici per quanto riguarda armature assassine in questo periodo sto guardando molto un po' la lore dei vari personaggi qua di killer e killer instinct di guilty gear e mi stanno piacendo molto io provai soltanto tanto 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 tempo fa la demo di un guilty gear perché tipo lo volevo provare come cacchio si dice porco demonio il dragon install diventa una bestia quello che volevi fare tu soul ma kai ha vinto sarò disponibile per la rivincita in qualsiasi momento questo kai mi stuzzica molto l'apparato digerente e non è davvero malazzo il primo video è finito ci vediamo domani adesso sono ancora un po' indeciso se domani caricarvi subito un prossimo video con un nuovo scontro quindi vi farò vedere due nuovi personaggi o un pezzo della live che avrò portato l'altro giorno vedremo comunque domani ci sarà un doppio video a mezzogiorno ci sarà il video a mezzogiorno e mezzo ci sarà il video con la scelta di Ez riguardante il pay per view che ci sarà poi domenica notte elimination chamber e verso le 18 a un quarto alle 18 uscirà il video su guilty gear spero che questo qua vi sia piaciuto e ci vediamo nelle prossime giornate due giorni si e poi salto e altri due giorni ancora con nuovi video con la beta